Eeeh saluto a tutti i bisogni e bentornati in questo nuovissimo video Oggi siamo nell'episodio numero 5 Pare? Si siamo nell'episodio numero 5 Wow! Sono già 5 settimane che stiamo facendo questi video Allora, oggi parleremo degli errori che non bisogna fare Mi è stato chiesto e io ho pensato che fosse un'ottima idea Che ci sta per la linea che stiamo prendendo E quindi ci sta di parlare di queste cose Ma prima di iniziare vi ricordo che in descrizione Troverete il link del mio disco personale Il disco della comunità italiana E tante altre cose utili Quindi vi ricordo sempre di dare un occhio in descrizione Vi ricordo che potete commentare consigliandomi dei prossimi video che cosa fare E niente Intanto ringrazio anche il mio amico Dylan Akashar Che per avermi aiutato un po' a trovare qualcosa Gli errori che si possono fare inizialmente Che lui ha appena iniziato Quindi magari ho voluto chiedere a lui Perché per me è sempre un po' difficile riuscire a capire quali sono i problemi iniziali Perché io ne avevo trovati 3 Che sono i primi 3 che vi andrò a dire E poi insieme a lui abbiamo un po' discusso Abbiamo trovato, siamo arrivati su 11 problemi all'incirca Quindi niente, iniziamo subito Allora la prima cosa che tutti fanno è il luttare Hanno tutti la foga di luttare Ammazzano una persona e hanno la foga di luttarlo subito E poi ci schiattano perché magari arriva qualcun altro C'era un compagno nascosto Di cui lui magari non ne sapeva niente Quindi non bisogna luttare subito perché Tanto avete, insomma in totale Dipende dalla mappa 30, 45, 50 minuti per luttare la persona Quindi controllate sempre bene tutto Ammazzate Controllate bene tutti gli spot Tutto quanto dove la gente potrebbe stare E dopo di che procedete a luttare Poi La foga di uccidere Ovvero Anch'io spesso sbaglio in queste cose Peccato non ho la clip perché l'avevo eliminata subito Però Se voi vi ritrovate con uno Che sapete dov'è Sapete com'è posizionato Ma volete subito la foga di andare a prendere Uccidere e fare la bella azione No Prendetevi un attimo e pensate Se questo non vi puscia Pensate un attimo quello che potete fare Ad esempio Questa era la situazione in cui ero io Eravamo in 4, in 5 Non ricordo I dormitori di custom Eravamo in 2 sulle scale del piano terra Io scendo a destra e vedo uno che era appena entrato Gli sparo un attimo e torno indietro E poi ritorno subito giù e gli risparo Il problema è che lui sapeva già dov'ero Io non avevo un'arma perfetta per il close quarters Che avevo l'MDR-762x51 Che spara un po' lento per il close quarters Mentre quello avevo un MP7 Io ho sbagliato a fare questo push Infatti lui mi ha segato subito Che cosa avrei dovuto fare? Avrei dovuto magari lanciare una granata Sentire la sua mossa E magari a quel punto piccare Perché lui stava magari scappando dalla granata E non era in mira E potevo beccarlo Quindi prima di uccidere Pensate sempre Soprattutto se giocate sempre in coppia Aspettate sempre Fatevi un po' di tattiche Qualcosa Ma mai Mai Avere la foga di uccidere Questo ovviamente sono cose tutte per gli inizi Poi se uno magari è ultra bravo Ad essere aggressivo Può fare quello che vuole Ma vi sostiene Sono le basi Sto parlando Per chi ha appena iniziato a giocare Questo è quello che non bisogna fare E giocare esclusivamente per le kill Se avete appena iniziato Io sconsiglio vivamente Ed è anche un errore Giocare per le kill Avete da fare le missioni Avete da fare tante cose Non avete molti soldi O siete esperti O non giocate per le kill Perché vi riduce la stascia a zero Perché magari non sapete Tutti i posti dove la gente può stare E quindi non giocate per le kill Ma giocate bensì per le missioni Inizialmente giocate per le missioni E così via Un errore che molti fanno Anche quando si gioca in gruppo E non parlare mai Con la squadra Cioè comunicare le cose Quindi Bisogna sempre parlare Però bisogna comunicare tutto Con intelligenza Cosa significa? Non è che Siamo in una situazione In cui si va tutti piano E stiamo lì a parlare Ma bisogna comunicare l'essenziale Ovvero ad esempio Guarda arrivo E lo pusho da dietro Faccio il giro largo E vado da lì Ok sono su queste scale Sto arrivando Vai E quindi il compagno Prende e fa la sua mossa Bisogna comunicare Ogni singola decisione Che si prende Perché a me è capitato Le persone che stanno zitte Non dicono niente E quindi io le uccido E poi gli faccio Ma perché eri lì? Eh perché lo stavo prendendo da dietro Sì ma non l'hai detto Sei andato nello stesso punto E pensavo fosse un suo compagno Sapevo che eravamo tutti insieme Nessuno ha comunicato Che si è spostato E quindi è normale Che ti ha ucciso E quindi Questo è quanto Parlare sempre E comunicare Con intelligenza Un altro errore che si fa È correre Correre tanto Non correte tanto Se avete visto Il video Quello Della dimostrazione Di custom Comunque Guardavo tutti i punti Lentamente Camminavo Quindi controllate sempre Almeno che Non siete in un punto Veramente aperto Quindi ovviamente Il consiglio è Levarsi Prima dalle palle Però Non correte Perché Se state sempre a correre Rischiate che Le persone vi sentano Perché se voi correte Fate più casino Rispetto al camminare E quindi Le persone prendono già posizione Sanno che state per arrivare E non dovete correre Il mio consiglio è Prenderla con più calma possibile Poi un'altra cosa Che non Molti sanno Anche dopo anni E anni che giocano a Tarkov Ovvero il fatto Di stare fermi Se voi state fermi E vi girate Su voi stessi Fate delle sottospecie Di scivolate Quindi fate tipo Qui Qui Ok guarda Mamma mia Quanto sono bravo a fare Questi suoni Questi più o meno Sono Insomma il rumore Che fate E se Voi siete in una stanza E nessuno sa Della vostra esistenza Voi fate questo Casino Vi sentono fin dall'altra parte Del mondo Ma se voi Vi muovete lentamente Quindi con la velocità Al minimo E siete anche Abbassati O crauciati Come volete chiamarlo E Quindi vi muovete Magari Attaccati al muro Anche soltanto Andando all'indietro E muovendo la visuale E voi Non fate Quel rumore Quindi Il mio consiglio Se nessuno sa Della vostra esistenza Camminate piano piano E muovete La visuale Invece di stare fermi E muovere la visuale Perché spesso e volentieri Fate Quel casino Che vi Vi sgamano E potreste essere Nei casini Poi In tanti Sbagliano anche L'utilizzo Del laser Ovvero Lo tengano Acceso Fisso O magari Lo puntano Dove le persone Lo possono vedere Quindi Utilizzatelo con intelligenza Accendetelo Quando ce n'è bisogno Quindi magari Siete in un punto All'interno Delle persone Salgono delle scale Ma voi puntate Il muro Accanto alle scale Loro sanno già Che voi state mirando Da destra E quindi Sanno già dove Prefarare Ma se voi Magari mirate Un po' più a sinistra Nel muro Accanto a voi Avete un millisecondo Che voi spostate A destra Appena arriva Veramente di poco E lo prendete E loro non sanno Che voi stavate Puntando lì Con il laser Quindi Utilizzate il laser Con intelligenza E non lo accendete Spengete Quando siete Magari Nella stessa situazione Che ho detto prima Con il casino Di quando vi muovete La visuale Quando state fermi Perché se Non sanno La vostra posizione Voi fate Casino Nel Accendere Il laser Nel Cambiare Il selettore Di fuoco Aprire L'inventario E mirare Quindi Non fatelo Se siete In un momento Di silenzio Nessuno Sa la vostra posizione Perché fate Casino Con tutti Questi Quindi Nel Cambiare Il selettore Di fuoco Aprire L'inventario Mirare E accendere Il laser Quindi Scegliete Bene La vostra Mossa E Non fatelo Quando magari Sentite dei player Di cui non sanno La vostra esistenza Un'altra cosa Che magari Le persone fanno E trascurano Il volume Ovvero Quanto è alto Il volume Del gioco Tarkov Più alto È il volume Del gioco Meglio È perché Sentite i passi Quindi Il consiglio È quello Di tenere Il volume Del gioco Il più alto Possibile Perché Se no Vi perdete Magari Anche Quei piccoli Rumori Infatti Io tante volte Mi sono ritrovato Ma forse Ho sentito Uno Che ha aperto Una porta Ed ero Veramente Lontano E quindi Io dicevo Boh Magari Sono pazzo Si girano A controllare E appunto Qualcuno Aveva aperto La porta E magari L'avevo sentito Io Invece Di tutti Gli altri Quindi Gestite bene Il vostro audio Del gioco Il vostro volume Un altro errore Che molti fanno È Lo stare Tutti uniti In fila Non state Tutti uniti State tipo Anche Un tre metri Di distanza Però ovviamente Dovete riconoscere I vostri compagni Quindi Un consiglio Che vi do È quello Appena spawnati Guardare bene I vostri compagni Così li riconoscete Ok Che magari La gente può avere Uno setup simile Però guardate bene I vostri compagni In modo da poterli riconoscere E quindi State un po' più Staccati Quando Andate a giro Perché Tante volte Come nell'ultimo Video Che ho fatto Di clip Le prime Due kill Che ho fatto Mi si sono allineati E le ho uccisi Ma come ho tante clip Dove di gente Erano Strapiccicati E io In un nanosecondo Muovevo la visuale Facevo entrambi Quindi Non state tutti uniti E soprattutto In fila Che è la cosa Più sbagliata Da fare Non coprite Lo stesso punto Dell'amico Questo è un altro errore Che Che si fa Che guardiamo Lo stesso punto Insieme a un compagno Ma magari Se guardate Lo stesso punto Guardatelo con intelligenza Ovvero Uno ricopre Il lato destro E uno ricopre Il lato sinistro Perché magari Quello che ricopre Il lato destro Lo manca E si sposta Sulla sinistra E magari ci siete voi A ricoprire Quindi Non coprite Lo stesso punto Ma se lo fate Fatelo sempre Con intelligenza Un'altra cosa È non pensare Troppo alla grafica Ok Che questo gioco Ha una bella grafica A me Per un bel Per un bel 400 ore Su questa O 500 Su questa patch L'ho Utilizzato L'ho giocato Con la grafica Quasi al massimo Perché Non so È veramente bello Mi dà un sacco Di voglia di giocare Però Questo gioco Ti dà uno svantaggio Se hai la grafica Al massimo E se ce l'hai il minimo Ti dà un vantaggio Ovvero Le ombre Ma anche La luminosità Diciamo Cioè Se io ho la grafica Tutta al minimo Oltre a non vedere Le ombre Anche da pochi metri Vedo tutto Molto più chiaro E se invece Io ho la grafica Al massimo Vedo tutto Molto più scuro Anche un cespuglio Quindi magari Io ho la grafica Al minimo Vedo un qualcosa Di scuro Dentro a un cespuglio E so che è una persona Però la grafica Al massimo Vedo un qualcosa Di scuro Nel cespuglio E non Non penso sia un nemico Perché ovviamente È già tutto scuro Di default Quindi Il mio consiglio È di mettere Tutto al minimo Queste Sono le mie Impostazioni Attuali Ovvero Le vedete in questo momento Sono le mie Impostazioni attuali E quindi Vedo tutto Tutto un po' più chiaro E non sono svantaggiato Come insomma Sono al pari di tutti Quindi Questo è un gioco Che ha bisogno Di avere Più fps possibili E quindi Non guardate troppo Alla grafica Quello lo si può fare Più avanti E si spera Che facciano Come in tanti giochi Anche se io Metto la grafica Al minimo Ce l'ho Nella stessa maniera Che se io la metto Ad ultra Soltanto che ad ultra Ovviamente è tutto Più dettagliato Quindi no Qui più bassa E più avvantaggiati Siete Quindi niente Adesso vi lascio Metto una piccola clip Per spiegarvi Un po' tutta la situazione Di una cosa Che è successa Con Con degli amici E Spero che da questa clip Possiate capire Gli errori E le cose giuste Che si fanno Ovvero Nella fuga di Luttare E fare le kill Che è una cosa Proprio Io avevo trovato Questi due errori Che spesso Le persone fanno Quindi Vi porto A questa clip E spero di riuscirvi A spiegare bene Tutta la situazione A farvi capire Bene Perché non bisogna Avere la fuga Di tutto questo Ok eccoci qua La situazione è questa Noi stavamo entrando E dormitori di custom Quella a tre piani E stavamo partendo Dal piano terra Quindi In due Entriamo Al piano terra Uno Entra Al piano Al secondo piano E spot A uno Siamo a due venti Quindi a sinistra Questo ragazzo Sai al terzo Per pulire Il terzo piano Io lancio La granata E questo qui È corso Senza controllare bene Per ripulire È corso Senza controllare bene E c'è morso Perché era Tutto ultra scuro E non ci vedeva Quindi Questo è un errore Che è corso Su senza controllare Per bene E sostanzialmente Ci è Schiattato male Adesso Ecco qua La cosa Come ce la giochiamo Bene Qua fra di noi Ovvero C'è un compagno Alla mia destra Ovvero È salito dall'esterno Al secondo piano Dove Ha diverse Coperture Perché poi c'è un letto Che devi saltare Per arrivare da me Che lui sta coprendo Se arriva qualcuno Al Insomma Lui controlla Che non avanzi Quello Che è Sulla sinistra E in più c'è Quello al terzo piano Poi andando avanti Il mio compagno Dice Che lui va All'esterno Dico che lui Va sulla Va sull'esterno Sale Fino al terzo piano Dalle scale di ferro In modo da poter Distrarre Quello che è Insomma Al terzo piano Però A sinistra C'era uno Dall'altro lato Quindi sentivo Altro ferro Quindi uno stava Salendo al secondo piano Visto che a sinistra Se fai ferro Puoi salire Solo al secondo piano Quindi qui Cosa Ottima tattica Di lasciar fare Quello che era Di là In modo che Potesse rompere Le palle A quello Che era Dentro E qui appunto La tattica Era proprio Di far distrarre Quell'altro Di là Io sapevo Che ero Troppo in ritardo Per andare sopra E mi sono fatto I grandissimi Cazzi mia Ora c'era Quello sopra Che stava Scendendo Allora io Aspetto Questo scende Fa la cazzata Che mi pusha Io ero Avantaggiato Cosa faccio Non è che vado Lì Qui Il mio compagno Ha ucciso L'altro Io cos'è Che ho fatto Non è che Ho aspettato Di Cioè L'ho luttato Subito Ho preso Le cose Io l'ho ucciso Ho preso Mi sto facendo Mi sto curando Ce n'era un altro Però avevo bisogno Di curarmi C'erano tanto C'erano i miei due compagni E mi faccio Tutte le cose Con calma Per curarmi Morale Della favola Siamo sopravvissuti In Due Su Su Quattro Perché L'altro Era morto Perché per prendere la roba del nostro compagno È stato shottato da uno dall'altro piano Questo altro errore Che non è stato controllato Se appunto C'era qualcuno a controllare dall'altro piano Cioè dall'altro Edificio E quindi Niente Spero di aver spiegato Un po' Bene Il Gli errori Che sono stati fatti qui Che non Vanno fatti Ovvero Quello di luttare Che io non ho luttato subito Quello lì Mi sono messo subito a curare Che era la priorità Quella di curarmi L'altro mio compagno Aveva fatto fuori Quelli che erano Lì sulla sinistra Delle scale E In più C'è stato l'errore Che non è stato Ho avuto la foga Di prendere la roba Del nostro compagno Senza controllare di là E infatti C'è rimasto Quindi niente Io spero che Questo video Vi sia Stato utile Come lo spero sempre E spero di Essermi spiegato bene Come anche questo Spero di Riuscire a A farlo Perché un po' di problemi Ne spiegare le cose Ma in tanti di Insomma ho visto Un sacco di commenti Che dicevano che Spiego tutto Alla perfezione E spero sia stato così Anche per questo Quindi niente Nel prossimo video Finalmente andremo a vedere Tutte le armature Le differenze Delle armature Perché magari Un armor class 4 È meglio di un armor class 5 E poi i vari materiali Perché un materiale È meglio dell'altro Quindi niente Io spero che questo video Vi sia stato utile Di essermi spiegato bene E quindi niente Ci vediamo Nel prossimo video E Iscrivetevi Ciao 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 Opa-cchiii! Ehi! Tiki-briki, b**h, tiki-briki, b**h, b**h! Tiki-briki, b**h, tiki-briki, b**h, b**h! Aaaa!